Cinque comuni, paesaggi fiabeschi, un territorio duramente colpito dal terremoto e la voglia di rinascita. Tutto questo è territori forti e fluidi, una sinergia di comuni, quello di Ustita come capofila, poi a seguire Castel Sant'Angelo sul Nera, Serra Petrona, Val Fornace e Visso, che insieme all'Agenzia del Turismo delle Marche è volto alla valorizzazione di questi comuni, che sono sì conosciuti, ma talvolta non se ne conoscono le ricchezze in essi contenuti. Ci sono territori che nonostante il terremoto, nonostante tutto quello che è successo, hanno voglia di vivere e hanno voglia di far conoscere appunto quelle che sono ancora la nostra forza. Eventi in simbiosi con la natura che si presenteranno al visitatore, suscitando emozioni da poter vivere sia in montagna che a fondo valle, dove i percorsi d'acqua saranno protagonisti. Abbiamo il laghetto di Bocca Fornace che è uno specchio d'acqua incastonato nel verde e cerchiamo di far conoscere le nostre bellezze naturalistiche. Valorizzare e promuovere un territorio che da troppo tempo soffre per gli ingenti danni riportati dal sisma. Questo credo sia un significato importante perché dal titolo territori forti e fluidi, forti perché credo che abbiamo dimostrato un po' tutti che oltre alla resilienza noi siamo più resistenti della resilienza. Non è un gioco di parole, ma dopo sette anni devi essere resistente perché è improprio dire resiliente oggi. Ovviamente fluidi perché è un territorio dove, almeno parlo per Castel Sant'Angelo, è la patria dell'acqua, dove nasce l'acqua. Ma l'obiettivo è anche quello di promuovere i prodotti tipici del territorio. Noi come comune abbiamo messo i prodotti tipici perché visto ricca di arte ma anche di prodotti che fanno parte dell'orcineria, maggiormente dei formaggi, i tartufi. E così tra paesaggi sorprendenti e prodotti enogastronomici straordinari, per circa 20 giorni i territori forti e fluidi saranno letteralmente sotto i riflettori.